Musica Ho chiamato questa canzone Vulcano, che è tra l'altro la prepista del mio nuovo progetto, perché io mi sento un po' un vulcano e perché credo che sia un titolo abbastanza emblematico, un manifesto programmatico di quello che sarà il mio futuro album. È un vulcano, come si sa, è qualcosa di molto esplosivo, parecchio, a meno che non sia spento, ma in tal caso l'ho acceso io. Ho deciso di girare il video a Berlino perché Berlino per me è una città molto particolare e bella, perché è una città molto vera, è poco artefatta. Ho deciso di girarlo di notte perché di notte è ambientata la canzone e anche di notte in gran parte l'ho scritta. L'ho girata fino all'alba perché appunto c'è quest'alba citata nella canzone e perché ci sono delle ambientazioni molto vere, molto urban ed è stato tutto girato in maniera con dei piani sequenza, poi sovrapposti e delle situazioni immediate, dirette, create dall'incontro con delle persone per strada e facendo, cioè con azioni molto quotidiane come bersi una birra o mangiare un falafel. Ci troviamo in un bar dell'Indiano a Milano perché l'ho citato all'interno della mia canzone Vulcano appunto, cito questo bar dell'Indiano che profuma di te, quindi questo profumo speziato riferito a una persona non citata ma immaginata e ho deciso di presentare oggi col mio singolo perché fosse nell'ambientazione dove tra l'altro ho anche incontrato delle persone che mi hanno parlato le loro storie e che mi hanno ispirato per questa canzone.